Allora, domenica pomeriggio abbiamo l'opportunità di incontrarci verso il Teatro Masetti di Fano e partecipare al secondo incontro di un progetto organizzato dall'Opera Donorione che ha come filo conduttore l'accoglienza e proprio in virtù di questo che accoglie tutta la cittadinanza per la visione di un film che in questo caso sarà Caterina va in città in virtù del fatto che l'incontro è un'occasione privilegiata per parlare della relazione educativa in casa e in famiglia Tale progetto si colloca in un più ampio percorso presso il Teatro Masetti dell'Opera Donorione alle 5 del pomeriggio percorso che si concluderà attraverso una relazione, un film e un aperitivo conclusivo e la ragione per la quale io vi chiedo di venire è perché potrete dire io c'ero e ho partecipato collaborando positivamente alla riuscita di questo progetto 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 Progetto